Il team Barbie chiamo Marco Genovese e ci canta una bellissima canzone degli U2 ed è Pride Il team Barbie chiamo In the middle of the night One man can and cook One man can and to justify One man together too In the name of love One of the songs In the name of love In the name of love One more one man can't fix One man he resists One man watch, have an empty fear One man kiss and tear In the name of the Lord One for the name of the Lord In the name of the Lord One for the name of the Lord That's beautiful No Grazie. Grazie. Andiamo avanti con la prossima concorrente in gara, lei è Martina Calabrese e canterà un brano di Francesco.